Buongiorno professor Metta, grazie per essere con noi. Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, un centro di eccellenza in Italia, in Europa e a livello internazionale su dati e intelligenze artificiali, sistemi robotici per le scienze della vita, quindi per aiutare la salute, per aiutare l'assistenza sanitaria, per aiutare la cura e le terapie digitali. Ringrazio e volevo fare qualche commento sulla questione dati perché, intanto volevo ribadire l'importanza perché quello che abbiamo fatto proprio qualche settimana fa è stato lanciare il nostro piano strategico per i prossimi sei anni, un piano che è un po' come il piano industriale, se fossimo un'azienda sarebbe il piano industriale, quindi definisce cosa vorremmo fare nei prossimi anni. Quindi avete lanciato un piano strategico per i prossimi sei anni? Esattamente, in questo piano strategico la cosa fondamentale è evidentemente quello che sta succedendo nel mondo del digitale, quindi l'impatto della scienza guidata dai dati per, evidentemente, lo sviluppo di una serie di linee di ricerca scientifica, in particolare noi ci occupiamo di quattro aree, tra queste c'è anche quella della tecnologia per la salute. Ribadisco la parola tecnologia perché noi anche quando facciamo biologia in realtà lo facciamo sempre con un pensiero a quello che può essere lo sviluppo proprio di tecnologie e di soluzioni che arrivino molto velocemente ad avere un impatto nel mondo della salute. Quindi quando hai citato la robotica, evidentemente questo è uno di quei settori. Quello che mi ha colpito del vostro piano strategico è questo AI first. Quindi l'intelligenza guiderà l'intelligenza al primo piano, l'intelligenza per prima? Assolutamente sì. Io ho usato una parola diversa prima per un motivo perché non si sente parlare altro che di AI, evidentemente, e credo che sia assolutamente importante, ma volevo mettere l'accento sul fatto che l'AI non vive da sola, vive di fatto di due grosse componenti. Una è quella del dato e quindi bisogna acquisirlo e curarlo perché non pensare che deve essere conservato e organizzato in maniera efficiente vuol dire che di fatto non averlo. E poi, evidentemente, c'è l'aspetto del calcolo perché una volta che ho anche i dati devo essere in grado di elaborarli. Questi due aspetti poi sono descritti nel nostro piano strategico, ma credo che sia una visione di digitalizzazione a tutto tondo che dovrebbe fare qualunque sistema di ricerca da una parte, ma anche industriale dall'altra. Quindi non da meno si vede sempre di più anche nelle aziende la nascita di un pensiero al digitale molto profondo. Io ho una delle mie solite provocazioni, adesso ci conosciamo da un po' di anni, quindi sei pronto. Allora, ieri è stata lanciata in un evento molto bello, alle corsie esistine, dal governo italiano è stata lanciata la strategia italiana sull'intelligenza artificiale, un momento molto importante in cui appunto si è parlato degli investimenti, che cassa dei passi dei pressi ti farà, eccetera, eccetera, eccetera. Però purtroppo con il mio bias non ho potuto non osservare che nella strategia, cioè diciamo la parte di salute, cioè se la salute è riconosciuta come uno degli ambiti più importanti in cui l'intelligenza artificiale opererà, però la salute non c'era ieri. Cioè continuiamo a tenere separate le cose, no? Continuiamo un po' a tenere separate le cose, come se sempre l'economia va da una parte e la sanità va davanti. Sì, non so se sia necessariamente così, nel senso che poi bisogna entrare un po' forse nel dettaglio, diciamo, contro il lancio di un programma sull'AI e quindi focalizzato molto al pensiero di investimento, un conto è poi vedere in cosa si estrinseca, in quali azioni precise saranno poi realizzate. Devo dire che spesso quando, io dico, se c'è stato un pensiero di investimento e ne hai, ben venga, comunque questo sia realizzato, perché ne abbiamo bisogno a questo punto di, secondo me, di cominciare a pensare che dobbiamo sviluppare la tecnologia e quindi non solo parlarne, ma è necessario veramente mettere a terra delle azioni concrete. Sulla sanità, io penso che sarà certamente un campo di applicazione super centrale, è impossibile che non lo sia e penso che lo diventerà anche perché i fornitori di tecnologie per la sanità stessi utilizzeranno l'intelligenza artificiale. Poi bisogna fare un programma, secondo me questo è più un programma pubblico, quindi non necessariamente rivolto alle aziende, per fare implementazioni, ma questa è una continuazione del programma, se vogliamo, del programma di digitalizzazione, quindi legato poi agli interventi PNRR e così via. Se vi ricordate, è giusto per dare un commento, nel PNRR si era detto ma non si parla di robotica, la parola intelligenza artificiale è citata poco. In realtà poi abbiamo visto che i programmi, i progetti sono nati, quindi devo dire che bisogna poi, insomma, fare il passo successivo e andare verso l'implementazione. Certo. Ci racconti due progetti che state facendo, che state per intraprendere all'Istituto Italiano di Econogia di Genova nell'ambito della salute? Sì, due cose, una molto specifica e una più generale. Quella molto specifica, abbiamo lanciato una start-up che io trovo molto bella per il lavoro che è stato fatto, nel senso che è una combinazione di, diciamo, ricerca di base sul neurosviluppo e ricerca farmacologica, dove la parte di base è stata fatta con una ricerca di biologia, se vogliamo, tradizionale, la parte invece farmacologica è completamente sviluppata al calcolatore. Quindi è stata una scoperta di due molecole che riducono effetti collaterali di un'altra molecola che è un farmaco e, diciamo, quindi c'è una possibilità che attraverso, o in questo caso è stato attraverso proprio l'AI, si sia trovato un componente, o quindi una possibile candidato farmaco, che risolva un problema molto importante. Questo, adesso senza entrare nel dettaglio, è stato possibile proprio perché abbiamo i dati, abbiamo i modelli tridimensionali delle proteine, sappiamo come sono fatte le molecole, possiamo simularle dentro un calcolatore, utilizzando anche algoritmi di AI, e trovare quelle che funzionano meglio. Questo, secondo me, è eccezionale, come pensiero proprio di sviluppo della tecnologia in questo campo. L'altro progetto, molto più grande, è un progetto che abbiamo sviluppato, in questo caso in Valle d'Aosta, IT, è vero che ha il quartiere generale a Genova, ma è un istituto di ricerca nazionale, in questo caso un progetto con la regione Valle d'Aosta e con una serie di altri partner, insomma, un consorzio, quindi come una sorta di progetto europeo, dove abbiamo costruito un centro, un intero centro di genomica, dove noi facciamo genomica per l'ospedale di Aosta. Quindi, di fatto, abbiamo messo insieme il laboratorio, la parte computazionale, l'elaborazione dei dati, la conservazione del dato, la biobanca, e poi abbiamo fatto anche tutto quello che serve per arrivare alla certificazione del centro, quindi noi adesso siamo in grado di lavorare a stretto contatto con l'ospedale, a analizzare i dati che arrivano dai pazienti e a fornire delle informazioni aggiuntive ai medici. Poi sta ai medici, evidentemente, a interpretare queste informazioni e decidere come sarà fatta la cura, però forniamo uno strumento molto valido di, se vogliamo, informatica medica, ma legata alla genomica. Ci puoi fare un esempio? Su quale dei due? Sul secondo? Sul secondo, sulla genomica? Su quello che potrà accadere appunto nell'ospedale dove state studiando i dati? No, noi abbiamo cominciato già a vedere i pazienti, quindi non è astratto. Noi siamo in grado a questo punto, in realtà lo fanno i medici, di darci i campioni. Noi facciamo il sequenziamento, siamo in grado di fare sia sequenziamento, vari tipi di sequenziamento, quindi tipicamente noi facciamo il genoma completo, siamo anche in grado di farlo a single cell, quindi in teoria se abbiamo un organo complicato, magari con un tumore, siamo in grado di analizzare le varie popolazioni di cellule e vedere quali sono le differenze, che insomma, analizzare veramente in profondità quello che sta succedendo. Abbiamo una tecnologia sia standard, sia di terza generazione, è una cosa molto interessante. Dopodiché facciamo l'analisi, questo vuol dire trovare le differenze dal genoma di riferimento o dalla cellula sana rispetto a quella malata e poi cercare di capire anche rispetto alla letteratura che cosa si sa magari di una certa mutazione e quindi andare dall'oncologo, nel caso che fosse un tumore, e fare un pensiero di medicina personalizzata, quindi si sceglie il chemoterapico sulla base di quello che ci sta dicendo la genomica. Io credo che questo passaggio sia molto importante perché veramente consente di essere molto precisi, evitare le recidive, insomma c'è un'opportunità enorme di curare le persone in maniera molto molto più efficace. Quindi il chemoterapico viene adattato al tipo di studio che viene fatto, quindi a quel paziente preciso? Più che altro viene adattato nel senso che noi abbiamo a disposizione una serie di molecole, evidentemente non le inventiamo nuove, però queste possono essere targettate per ad esempio inibire l'espressione di un gene, si sa che l'effetto di quella molecola è quello, si va cercando di inibire il gene giusto, quindi dato che c'è una certa mutazione, dato che si sa esattamente e con precisione qual è il problema, qual è stata la mutazione in quel caso. Quindi evidentemente non si può fare tutto perché noi abbiamo a disposizione un migliaio più o meno di farmaci globalmente che targettano diversi geni, il genoma umano è molto più complicato, però è evidente che già essere in questa fase, essere più precisi, è un grosso aiuto e secondo me è una possibilità di cura che evidentemente migliora il risultato e migliora in generale la futura prognosi, quindi questo secondo me è molto importante. Prima si diceva dell'importanza di fare cultura sul donare i dati e la possibilità appunto di avere accesso a grosse mole di dati sanitari per la ricerca scientifica. A voi quanto aiuterebbe questa piattaforma dei dati sanitari italiana o ancora meglio piattaforma dei dati sanitari europea aperta a un uso secondario? Evidentemente tantissimo perché abbiamo bisogno di allenare gli algoritmi a riconoscere, abbiamo bisogno sempre di più di capire processi cellulari molto complessi, avendone la possibilità, perché oggettivamente la biologia è complicata, ma l'intelligenza artificiale in questo momento riesce a fare delle cose veramente molto belle, è un peccato non avere il dato per farlo. Dobbiamo veramente, o ci aiuterebbe tantissimo poter avere accesso a sistemi di questo tipo. Alcuni li abbiamo già. Noi abbiamo accesso ad esempio a AlphaFold per ricostruire la struttura tridimensionale delle proteine, abbiamo accesso a una serie di software, in molti casi sono open source, quindi c'è una grossa possibilità. Noi di fatto in questo momento possiamo fare le sequenze, vedere come è fatto il genoma del singolo paziente, poi io posso cercare, ho software che da quel momento lì mi determinano se e come esprimerò certe proteine di cui conosco la forma tridimensionale. In mezzo posso calcolare interazioni tra i vari RNA e le proteine, quindi sono in grado di fare ancora un'analisi più sofisticata del fatto che quella proteina verrà effettivamente poi a un certo punto creata e se capisco che quella è un errore, quindi devo correggerlo, io sono in grado di simulare l'interazione tra molecole complesse e le proteine, quindi posso anche fare ipotesi di potenziali nuove cure, quindi nuovi farmaci. E questo ormai secondo me è una filiera che si sta mettendo insieme nel digitale, le aziende, qualcosa che hanno cominciato a fare, quindi lo sviluppo, si dice in silico, dei farmaci sta diventando qualcosa di sempre più realizzabile e quindi è chiaro che c'è una sequenza, secondo me, di software, di componenti che noi a questo punto possiamo mettere insieme, un'intera pipeline che ci consente di fare biologia a un livello che non è mai stato possibile prima. Grazie, grazie professor Metta e grazie al Centro Italiano di Tecnologia perché veramente è un'eccellenza, è un'eccellenza del nostro paese e quindi siamo tutti con voi. Grazie, grazie molto. Grazie, grazie.